Via libera del Consiglio regionale delle Marche alla nuova legge elettorale con cui si andrà al voto a maggio alle prossime amministrative in programma a maggio. L'Assemblea legislativa ha approvato con 27 voti favorevoli e due contrari il nuovo testo di legge. La proposta adegua la normativa sulle procedure di elezione del Consiglio regionale del Presidente della Giunta alla riforma statutaria del 2013. Il numero dei consiglieri nel rispetto delle disposizioni nazionali per la riduzione della spesa pubblica si abbassa da 42 a 30. Altra novità sostanziale è l'assegnazione dei seggi alla coalizione vincente in base a soglie percentuali. Introduciamo una modulazione del premio di maggioranza. Se una coalizione prende più del 40% ha diritto a 18 consiglieri su 30 perché i consiglieri passano da 42 a 30. Se prende tra il 37 e il 40 ha diritto a 17, se prende dal 34 al 37 16. Sotto il 34 la ripartizione avviene in modo proporzionale. Il Presidente eletto dovrà cercarsi una maggioranza in Consiglio. Introduciamo poi che si vota una sola domenica, che il Presidente che dopo due legislature non può essere ricandidato. In dissenso con il suo gruppo Elisabetta Foschi si è espressa contro questo testo di legge. Sostanzialmente non mi piace che venga cambiata la legge elettorale a ridosso delle elezioni, così come è stato cambiato lo statuto con l'introduzione degli assessori esterni. Neanche lo statuto sinceramente ho votato. E poi in ultimo perché non mi è piaciuto l'atteggiamento del Partito Democratico, che non voleva assolutamente e non ha voluto per tutto questo tempo la doppia preferenza di genere maschile e di genere femminile. Poi è stato talmente ipocrita da votare un ordine del giorno che potrà valere per le legislature future. L'Aula ha approvato l'emendamento del Consigliere Paolo Eusebi, secondo cui se la coalizione vincente scende sotto il 34%, i seggi vengono assegnati col sistema proporzionale. Era importante arrivare a quell'approvazione perché non aveva alcun senso in una legge così ben fatta che una minoranza meno piccola, chi prende meno del 34%, in realtà non merita un premio di maggioranza perché rappresenta, ancorché vincendo, una minoranza meno piccola. La filosofia mia era questa, se non c'è nessuno che merita il premio di maggioranza perché non raccoglie consensi accettabili dall'elettorato, allora si vada ad applicare il proporzionale e il Presidente poi se la spiccia e fa il Presidente e media le tante esigenze che si sono manifestate dalle elezioni.